intervistato da basti d'open radio john cena ha parlato della reputazione che in molti gli hanno cucito addosso e cioè quella di un wrestler egoista che non voleva passare il testimone e che ha portato alla rovina diversi suoi colleghi pur di non aiutarne o facilitarne la carriera a tal proposito c'è un bel estratto sul web che ho tradotto e adattato in italiano dice sina ho parlato con ostentieri per dieci ore l'ho visto non come un giorno perso ma come uno ben investito dovevamo capire il perché dei nostri attriti e che storia avremmo raccontato ma lo avrei fatto con chiunque perché ci credo e metto sempre in gioco il mio cuore ma dopo che qualcuno lavora con me non sempre trattiene quell'energia e io sposto la mia verso il prossimo della lista e allora di chi vogliamo parlare di age styles o di kevin owens bene a quest'ultimo ho detto vieni qui parliamo confrontiamoci per due settimane e poi entriamo nel ring per provare le sequenze pazzesche che abbiamo pensato vediamo cosa funziona e andiamo avanti con il piede giusto finito con kevin stessa cosa con sammy zane nessun problema guardate quello che fa roman reigns e a cosa accade a chi viene affigliato alla sua energia è un processo che ti eleva di livello è qualcosa che nemmeno io avrei potuto fare ma quando lavori con me hai un'occasione e poi sta a te tenere alta l'attenzione altrimenti la gente ti guarderà in modo diverso e penserà o mio dio lo ha affossato ma ricordatevi che vincere o perdere non conta io non vinco un match da cinque anni non conta niente insomma john ha lasciato intendere che ci sono molti aspetti segreti che i fan non conoscono e che certi match nascono da una preparazione maniacale a cui lui ha sempre tenuto molto un aspetto non così diffuso evidentemente soprattutto tra chi non è arrivato al top voi cosa ne pensate delle sue parole beh come al solito ditemelo nei commenti i siti americani confermano quanto vi ho riferito qualche ora fa nel precedente tg ovvero che set rollins ha ottenuto una parte nel nuovo film di capitano america stando alle attuali voci di corridoio set interpreterà un affiliato alla serpent society e quindi farà parte del cast dei cattivi della pellicola non a caso rollins non era presente nella puntata di road ieri notte dove sono stati mandati in onda due spezzoni di una sua recente intervista con corey graves artificio che verrà replicato anche per la prossima edizione dello show rosso della wwe dandogli così modo di girare quante più scene possibili o magari anche di esaurirle per poi tornare a pieno regime all'interno del quadrato in una recente intervista john cena ha rivelato di aver promesso a rick flair che qualora sua figlia charlotte dovesse superare il record di 16 titoli mondiali allora si presenterebbe personalmente anche durante uno show televisivo per porle le sue congratulazioni john ha anche aggiunto di apprezzare particolarmente il lavoro di charlotte e la legacy che è riuscita a crearsi nel ring stando al wrestling observer l'infortunio di live morgan di cui vi ho parlato nel tg precedente non dovrebbe essere di grave entità e anche per questo la difesa titolata delle cinture tech team prevista per la scorsa puntata di raw è stata semplicemente rinviata qualora si trattasse di qualcosa di più serio questa è la teoria della fonte citata la wwe avrebbe agito diversamente